Al via Russia 2018, Mondiale di Calcio senza l'Italia. Per la RAI una maratona radiofonica che si può seguire da oggi su tutte le piattaforme con Radio Uno Sport. Claudio Valeri. La radio è una vecchia amica che sempre si rinnova, mantenendo la sua vocazione, quella di esserci ogni giorno e dovunque, ora su tutte le piattaforme che offre la tecnologia. Fisco di inizio dei mondiali di calcio in Russia oggi pomeriggio e dalle 10 di mattina grazie a Radio Uno Sport, sull'app RAI Play Radio, sui canali del digitale terrestre, sulla tv satellitare e su DAP Plus una maratona radiofonica che non finisce mai, con fasce anche all'ora di pranzo via via fino a sera. Voce nota di tutto il calcio minuto per minuto, Francesco Repice sintetizza per il Tg1 il clima davanti allo stadio di Mosca che ospiterà Russia-Arabia Saudita. Non sarà la stessa cosa rispetto alle altre volte perché non c'è la nazionale azzurra, per noi però della radio in particolare sarà qualcosa di più se possibile. Intanto Sky e la piattaforma web Perform si sono aggiudicati i diritti tv della serie A per il prossimo triennio. Alla lega calcio 973 milioni. In chiaro salva una trasmissione storica della RAI, novantesimo minuto, qualcosa di un calcio un po' romantico e per tutti rimane. Grazie a tutti.